E cambiamo ancora argomento e parliamo del temuto e purtroppo diffuso ictus cerebrale. Nel meeting svoltosi il 10 ottobre a Bruxelles, anche l'euro parlamentare Aldo Patriciello ha sottolineato l'importanza di una distribuzione omogenea delle stroke unit sul territorio, poiché sono gli unici centri in grado di affrontare al meglio la malattia e le sue conseguenze. La geografia conta, questo è il titolo del meeting sull'ictus cerebrale, svoltosi tre giorni fa a Bruxelles e che ha visto protagonista il neuromed di Pozzilli. Così come spiegato anche dall'eurodeputato Aldo Patriciello, la cura dell'ictus, una delle patologie più diffuse e invalidanti per l'intera popolazione mondiale, è fortemente legata al luogo in cui si vive. Per questo è fondamentale ridurre la disomogeneità nella distribuzione nelle nazioni o nelle diverse zone di una stessa nazione degli stroke unit, gli unici centri specializzati ad affrontare tale malattia. Il tema che ci si pone è quello di superare le difficoltà, le barriere tra i vari paesi su una tematica molto importante che è invalidante, è una patologia importante, è una delle prime cause di morte nel mondo, dove il cittadino europeo tocca con mano delle disparità tra paese e paese, ma ancora più grave all'interno degli stessi paesi ci sono delle situazioni diverse. Prendiamo il caso ad esempio dell'Italia, dove vediamo una presenza nel centro nord con una maggiore diffusione delle stroke unit sul territorio, un sud più povero, un sud dove ci sono meno presenze territoriali negli ospedali importanti di stroke unit, dove sappiamo tutti che la stroke è una patologia che dipende molto alla cura dai tempi di percorrenza, dal tempo che intercorre, dalla causa, dall'evento che si verifica, al tempo di arrivo in ospedale, dove chiaramente in ospedali, in centri altamente specializzati, si possa affrontare con grande qualità e con grande professionalità l'approccio a una cura di una patologia molto seria. Fondamentale a riguardo è la tempestività dell'intervento in caso di attacco. I tempi di percorrenza per raggiungere i centri specializzati possono infatti cambiare il corso degli eventi. Nella città di Londra il tempo di percorrenza medio all'interno della città è di 30 minuti per arrivare e giungere presso una stroke unit. In Italia, al sud Italia, parliamo di ore, di diverse ore, per cui questo è un tema che rende forte la disuguaglianza tra i cittadini, perché non è possibile, non è giusto che un cittadino nel sud Italia o in Italia, se ha un evento così acuto di icotus cerebrale, deve vedersi curato in modo diverso rispetto ad altre realtà europee.